Misere, io penso che ieri quando descrivevi questa partita ti immaginavi questo atteggiamento, questo teramo. Sì, assolutamente. Volevamo dare una risposta a noi stessi in primis perché è chiaro che, come vi ho detto nella conferenza pre-gara, con il Montevarchi potevamo fare tanto di più e non siamo riusciti a farlo. E quindi su questo abbiamo battuto e penso che dal punto di vista caratteriale, temperamentale, oggi la squadra ha risposto in maniera positiva su un campo che c'è da ricordare che la Fermana su questo campo in casa non perdeva dal 19 settembre. Quindi questa la dice lunga sul coefficiente di difficoltà di questa partita. Questo è il teramo che vuole Guidi, un bel passo deciso in classifica ai fini della salvezza? Sì, ma tutte le partite sono complicate, difficili, come vi ho detto tantissime volte. Anche i risultati di oggi. Il Montevarchi sembra che sia la cenerentola del campionato, invece ha vinto anche oggi. Cioè c'è il regno all'equilibrio, tutte le squadre possiedono delle qualità, delle grandi risorse. E' un girone complicatissimo e quindi sappiamo che ogni partita è veramente livellata e può essere decisa da un dettaglio. E oggi si evinceva dalla panchina che c'era grande attenzione in ogni situazione. Quindi è questo lo spirito per raggiungere la salvezza, sicuramente. Mister, tre punti importanti, una prestazione importante, ma quando valgono nell'ottica salvezza? Era uno scontro diretto, valgono tutti tanto perché mancano poche partite ed è chiaro che le partite e i risultati hanno una valenza sempre maggiore. Oggi anche con la Fermana abbiamo lo scontro diretto a favore, questo ci permette di avere un leggerissimo vantaggio in caso di arrivo a pari punti. Però noi cerchiamo di continuare a insistere con questo atteggiamento, con questo spirito, andando poi da domani ad analizzare anche le cose che non sono state fatte bene, per continuare a migliorare e soprattutto per prepararci bene subito alla partita di domenica, che sarà difficilissima, che è un derby e sappiamo quanto i nostri tifosi ci tengono. Quindi dobbiamo prepararci bene, soprattutto per continuare con questo spirito, perché poi è lo spirito della curva e dei tanti tifosi che anche oggi ci hanno incitato dal primo all'ultimo secondo e siamo contenti di avergli regalato una soddisfazione. Senta, Mister, meglio il sombrero di Malotti sul difensore o quello dell'allenatore del Teramo in conferenza stampa quando ha detto che avrebbero giocato gli undici di sabato? Insomma, ogni tanto bisogna anche... era una partita estremamente importante e mi dispiace, insomma, e mi scuso con voi per avervi detto una cosa non vera, però non volevo dare nessun tipo di vantaggio neanche ai nostri avversari e quindi sapevo di fare un torto a voi giornalisti e mi dispiace, però era troppo importante. Un Teramo che forse perde due giocatori importanti come Pinto e Alzi Osmanovic. Alzi Osmanovic ha avuto un problema nella rifinitura che andrà valutato, è riuscito malconcio dall'ultima partita contro il Montevarchi e quindi insomma ora vedremo, lo valuteremo nelle prossime ore. E... chi mi ha detto l'altro? E' Pinto. E' Pinto, no, non penso che sia niente di che. È chiaro che quando giocano ogni tre giorni la fatica si fa sentire anche perché veniamo dal sintetico e abbiamo giocato su un campo morbido in erba e questi problemi insomma di affaticamenti ci possono stare. Una bella rivincita di Guidi oggi, no, nelle scelte? No, no, non è la rivincita di Guidi. I protagonisti sono sempre i calciatori e noi siamo un gruppo estremamente coeso che vogliamo raggiungere l'obiettivo per dare una soddisfazione a tutti quanti. è il Teramo che conta, no, Guidi o a livello singolare. Senta, mister, volevo chiederti, almeno per qualche giorno non sentirai dell'approccio perché oggi l'approccio è stato, possiamo dirlo, molto positivo. Adesso al di là del fatto che il Teramo non ha subito gol, però veramente abbiamo visto una squadra con uno spirito diverso a distanza di tre giorni. prima Mordini ha detto ci siamo anche parlati, che cosa è uscito fuori? No, ma vi ho sempre rimarcato e sottolineato quanto questi ragazzi ci credono, in quello che fanno, per come si allenano. Sono veramente dei professionisti esemplari e ci tengono alla maglia che indossano, alle loro carriere e alla loro professione. È chiaro che non sempre riesci a riportare in campo quello che alleni, però sono ragazzi che all'interno dello spogliatoio o piangono quando non riescono a farlo, o si parlano perché a volte anche inconsciamente, anche se non dovrebbe succedere, però forse il livello di attenzione, quando ti senti magari vicino all'obiettivo tendi un po' a non dare importanza a ogni singolo pallone e siccome il campionato, come vi ho detto in precedenza, è estremamente livellato, se non sei attento e concentrato su ogni palla rischi di pagarlo. Questi ragazzi lo sanno, sono sensibili e spero che questa sia per l'ennesima volta la partita da prendere come esempio per continuare nelle ultime sei partite senza ricadere in quegli errori che ogni tanto in questa stagione abbiamo fatto.